il biologico fatto solo per marketing non basta devi crederci, devi vedere che funziona per la tua azienda agricola e quindi vuoi valorizzare alcune azioni che fai in campo con una certificazione ora si può dire tantissime cose, ci sono tante complessità, tante difficoltà nel biologico però è ancora secondo me un mercato molto ma molto interessante sia in campo, proprio come approccio alla natura sia anche come fase di vendita, quindi come andare a valorizzare di più il prodotto che hai qua sotto ci sono i commenti, mi raccomando ditemi la vostra voi che cosa ne pensate? acquistate? non acquistate biologico? producete in biologico? non producete in biologico? quali sono le difficoltà che ci sono?